Pomeriggio particolare per il Benevento che ha incontrato i bambini della scuola calcio. Sui campi di Creta Rossa sono arrivati il tecnico Enzaghi insieme ai calciatori Etemai e Caldirola. Tanto entusiasmo da parte dei bambini che hanno abbracciato in particolar modo Super Pippo. Quando si viene da questi ragazzi bambini è stupendo vedere ancora come si divertono, è il succo del calcio per cui siamo contenti, sono un'iniziativa molto bella, e quando si può è giusto venire e stare tutti insieme. E con lei è stato un grande campione, cosa vuole dire a questi ragazzi? Ma no, di giocare per divertirsi perché a volte quando sono così bambini già si pensa a un domani, un futuro. Io penso che la cosa importante sia fare sport, stare insieme agli altri, stare a determinate regole, divertirsi. E poi chissà, però ne arriva uno su un milione per cui ci vuole pazienza anche ai genitori e lasciare liberi questi ragazzi, di divertirsi che poi è la cosa più bella. Sorrisi anche per Luca Caldirola che ha dato un prezioso consiglio agli aspiranti calciatori. Ma quello di divertirsi perché è l'età più bella, il periodo più bello della loro vita, credo, e quindi solo di divertirsi e di godersi ogni momento. Ma l'affetto dei bambini è un po' come tutta la città, è bello essere qui, è bello vedere tutti questi ragazzini che giocano, mi fanno tornare un po' a quando ero piccolo, insomma, è una bella atmosfera. Infine le sensazioni di Etemai, che ha ricordato i tempi in cui sognava di giocare a calcio. Vorrei tornare a quell'età là perché si godeva di più calcio. È molto bello stare vicino a loro perché portano tanto entusiasmo e sono molto belli da vedere.